Sono Lucchetta Giuseppe, nato a Besenello il 27 del 1 del 38. Ecco, mi vengo fuori da una famiglia dei contagini, fino a 20 anni, prima forse, perché dal 59 ho fatto il servizio militare. Poi sono andato alla Mislen di Trento, dove preparavamo l'acciaio. Praticamente tutte le gomme Mislen non le fatte col cotone, le fatte con una rete di acciaio. All'inizio del stabilimento, perché eravamo in tanti, erano 1800 persone. Praticamente era diviso su tre turni. Fino agli anni 60 si lavorava 48 ore, perché smontavamo la domenica mattina alle 6. Poi, passato l'anno 2 verso il 63, abbiamo iniziato a fare un'ora in meno. Praticamente venivano fuori, l'ultimo turno si fu a 6 ore, fino a che siamo arrivati ai famosi anni 70, dove si operi e contestazioni, l'avevamo portato a 40 ore. Stanno a conquista degli operai, veramente, perché le 40 ore le avevamo portate a tutte le aziende, praticamente. Eccola, dopo mi sono dedicato anche lavorando, perché quei turni dei paesi ne dedichevano a fare il doppio turno, praticamente, perché tutti gli operai che lavoravano, perché a Besenello eravamo assi in circa 40. Era il pullman che le portava da Besenello, feva il turno alla scuola tra Cagliano, Besenello, Mattarello, Trento. Si veniva a prendere e poi la sera si smontava e ci portavano dei paesi. Stai agli anni, circa gli anni 70 fino all'80, e dove che Besenello sta sempre in un paese che lavora tanto, perché vuol dire che 30-40 delle case fatte tutta via Roma qua, è stata fatta dagli operai, che nel tempo libero ne univano, chi fa il murador, il carpintiere, e ne siamo fatti la casa, praticamente. Così, dove che adesso non si può più lavorare, perché col piano sicurezza, tutto un insieme dei fattori, anche uno che ha la volontà, a parte i costi, non ti puoi più lavorare per conto proprio, perché c'è regole, dove che allora l'era più possibilità di arrangiarsi, praticamente. Ecco, dopo sono andato in pensione, sono dedicato per 20 anni al capo degli alpini a Besenello, nel 90 in forma il gruppo del Paese di Besenello degli Alpini, e sono stato dentro fino all'anno scorso. Ecco, nel frattempo mi hanno fatto Cavaliere della Repubblica, ho sempre lavorato, perché ho lavorato tanto nell'edilizia, anche dopo, ho svolto il lavoro, a parte la fabbrica, da murador, sotto le imprese, fino a due anni fa, che dopo per problemi di salute ho dovuto rinunciare, ho fatto la mia vita, e perciò adesso faccio il pensionato totale. con la passione delle bestie, con cunili, con galline, un po' di campagna, dopo ho fatto il vino, ho imparato a mettere il vino da mio papà, e perciò ho una cantina con le mie vasche di acciaio, mi coltivo il bianco e il rosso, per l'amicizia, non per l'interesse di vendere il vino, no, perché è così, la passione se la porta avanti. La Scanupi, a mio amico cominciato a 14 anni, in area montagna, perché allora il tenor di vita l'era... Adesso voavamo in quinta, dopo nemmeno le medie, noi al massimo nemmeno in quinta, sesta, perché dopo non era le medie, quando è che gara o meno. Gli aiutavamo i genitori, che avevano le bestie, le vacche, tutti i giorni venivano da scuola, le portavamo sui tomi dell'Hades, ma era in ora, due, tutti i giorni, anche la domenica, perché le bestie le doveva mangiare. E l'estate le portavamo in montagna, chi privatamente, perché allora non erano ancora le malghe, no, praticamente, no, qua su, no. Ecco, la noi, scomincia giovane, andavo con la slitta, perché a 15-16 anni bisognava andare a fare la legna, perché non era il riscaldamento. Sapevano la slitta sulle spalle. Era una fila sempre di contagini, operai, che partivano dalle 7, così, e si fevano una fila, ma erano 15 persone. Andando sulla strada, praticamente, che è 3-4 polsi, che dicevamo anche adesso, dove che, davanti alla fila, che era il tuo anziano, praticamente, che teniva il passo, e lì si metteva sulla slitta, perché la peseva sui 15-20 kg. Perciò, si posiziava 10 minuti, dopo avanti, se ne avevano del bosco, e allora, non c'erano le motoseghe, non c'erano le motoseghe, noi che disegnavamo le dialette, ma non c'erano le rotte, che sarebbero le scure, praticamente. Tagliare la legna, in base alle persone, che avevano forza, che si carichavano, chi in quintale, chi due, chi tre, dipende e la capacità delle persone, perché bisognava, dove che era il piano, bisognava tirare, sai cosa vuol dire tirare? Con i corni bisognava tirare, perché sul piano, in discesa, se l'era comune, in pianura, bisogna far fadiga, proprio a tirare la legna. Dopo che era qui, che aspetteva, quando che arriva la neve, perché sulla neve, si feva, come qui si, praticamente, veniva una pista, del sì, con la neve battuta, e allora, questa slitta, che era sotto il ferro, l'amine, L'era comune a venire, perché in discesa, bisognava alzarla, e tenere forze, perché se no, la ti butteva fuori, anche dalla strada, perché non era, i parapetti, come che adesso, no? L'era una strada libera, con i sassi, proprio, dove che passeva le slitte, e la feva i canali, proprio, in tante cose, se nelle strade secondarie, e vede i sassi, consumati, proprio, a forza di passare con le slitte. e la meneva so, e dopo si gattereva so, tutte le foglie, da sti rami, e si gattereva da mangiare alle bestie, alle vacche, o ai voi, perché dopo, i portava al latte, la sera, mi ricordo, quando è che veniva le 5, come adesso, che le 6, emozzeva le vacche, bisogna, ciappare il latte, non so, quando è che gare la neve, e bisogna portarlo dentro, al casello, dove che gare, adesso, la sede degli alpini, dove che gare, in casaro, praticamente, dove che peseva il latte, gare un libro, e noteva, tutti i giorni, mattina e sera, quanti litri di latte, o quanti chili, ogni giorno, che era una caselada, una caselada, voleva dire, che portava, sui 5, 5 litri di latte, ogni giorno, veniva fatto, il giro, no? Ogni proprietario, diceva, si che veniva fuori, 6 forme di formaggio, circa, una bella forma di formaggio, una caselada, 5, 6 forme, con 10, 12 chili di burro, e lo mettevano, dei pitari, di terra cotta, e lo saleva, perché non aveva la possibilità, di operare il burro, tutto l'anno, invece, quelli, che lo mettevano via salà, lo mettevano delle canzine, un po' fresche, e li tollevano su, giorno per giorno, quando si andava in montagna, praticamente, si metteva fuori, al litro, 2 di latte, fuori dalla finestra, del contenitore, la mattina, la mamma, o qui che lei, la tolleva via la panna, la panna, e la mettevano in una bottiglia, e battevano il latte, finché veniva fuori, la balotta del burro, perché dalla panna diventa il burro, e veniva fuori, come donòs del burro, questo litro di latte, ecco, dopo il latte, lo devono alle bestie, perché l'era, esnervato, praticamente, però, l'era un modo, per avere il burro fresco, io ti potevi, pensami, quando erano le feste di Sant'Agata, ne aveva mancato di notte, attorno alla legna, perché sapevi, magari, di esalire, per la vendeva la legna, per andare a fare festa, dopo, da Sant'Agata, con la roba lì, perché allora, soldi non ne avevano i genitori, perché non venivano, ne avevano anche per mangiare, che prima degli anni 50, prima, anche subito dopo la guerra, era una tessera, sotto il fascismo, mi conosco il fascismo, perché mi ricordo, ho visto i Balila, dopo la guerra, quando è che il sabato di sera, ragazzi, come voi altri più giovani, dovevano andare, presentarsi davanti alla scuola, con quel grembiule nero, e fevano i Balila, lì che insegnavano a fare la ginnastica, perché non era la democrazia, che adesso tutti potrebbero andare, per quel che volevano, ma allora era una dittatura, praticamente tutti i scolari, che gheravano le scuole, dovevano presentarsi il sabato, che deseva il sabo fascista, praticamente. Venivano fuori tutti da una famiglia, dalle famiglie, che era la sopravvivenza, però ne divertivamo anche noi, perché del poco, quando fiochevano, dovevano tirare le bale, durante la guerra, che era Calian, io scappai da Calian, e io avevo fatto, come adesso, i profughi, e stavano così nelle famiglie di Besenero, però sempre stavano una rivalità, perché quando venivano fuori da scuola, accompagnavano i sassi, fino alla cross, che era proprio sulle strade, così, perché non era l'asfalto, che era tutti bianchi, tutti i sassi sulle strade, non era, cose, e dovevano pensare, ma così, per divertimento, o se no, ne dovevano pensare a casa, con le scarpe, e le portavano fino alla scuola, perché avevano le sgalmere all'inverno, sai cosa è che le sgalmere, che è un soco di legno, praticamente, con una tovaglia, che era il calzo laico, e le fevano a mamma, e lì invece mettevano le peste al caldo, e mettevano queste famose cose, però le era dure, perché sotto, che mettevano i ciodi, e sono di rong rong, che andavano su per la cerba, e pareva i cavalli. A scuola hai preso molti castighi? Eh beh, non c'è pancamino, non posso dirti quanti, però qualche uno lo c'è pancamino, o che si cacereva, o che si fea maria, i 10 minuti di ricreazione, se ne va a bagare, o qualche, perché dopo la guerra, c'era anche il pericolo, c'era tante munizioni che girevano, tante pistole, bombe a mamma, e lì, dove che, adesso c'è quella alber, che era l'alber grande, lì, tacca la cesa, e anche le scuole, lì era più un villestale sgrandai, lì era più piccoli allora, e c'era il nord, dove che venivano fuori, a fare le aiole, però la terra, che era anche bombe, mi ricordo, a miei compagni, per esempio, la vista sta balotta così, e la ciappata, la tratta contro il mur, praticamente l'è scopiata, e uno l'ha ciappata, su tutta la faccia, questo Giorgio, però l'è sta miracolata, perché la ciappata, tutti i punzi, fuori che gli occhi, non gli hanno accato qui, tutte schegge, dappertutto la faccia, praticamente l'è scappata, perché si ha visto il sangue, lì fuori oltre, praticamente, dal campo del recreatorio, che era una fontanella, e se salteva su, non l'è scappata su, per il recreatorio, che se ancora resti, dopo li sta portando all'ospedale, comunque, è una roba che è successa, mi ricordo, quando ero ai tedeschi, le scuole erano tutte occupate, dai tedeschi, erano le cousine, dove si vede a mangiare, perché i tedeschi, avevano dentro per le case, durante la ricerata, del 1945, perché mi ho visto i carri armati, a passare qua, qua sulla nazionale, prima scappai, scappai ai tedeschi, magari, tese 15 giorni prima, li abbandoneva, perché nella ritirata, da Verona in su, li portava via, cavalli, biciclette, stoffe, tutto quello che era la ritirata, però dopo, quando gli americani, venivano gli avanti, li abbandoneva, per poter scappare, ti trovi lì a casa, magari 4-5 biciclette, li abbandoneva la roba, perché gli scappavano, per andare in fuori, no? Per essere più, più così, no? E la sa, lui c'è anche di munizione, insomma, che era pericolo, anche nel periodo delle scuole. Vuole vedere, una macchina della guerra? La scampagnola, una jeep? Sì, sì, guarda la gola, lei, uguale come quella, che fa la guerra, la ho ancora, da mettere in funzione. Vedi come è che l'era? Lera, questa qua salì la, la wheel, la jeep americana, sono qua, la ho recuperata, adesso andrò a metterla in funzione. Sì, non si accende.